E' diventato un tormentone tutto diamantese che nel prossimo fine settimana sarà definitivamente risolto. La lista unica da contrapporre a quella della maggioranza uscente si farà? La domanda è lecita e la proposta è arrivata da più parti, quasi a ripetere un ritornello, al quale però forse in pochi credevano realmente. Oggi che Magorno ha ufficializzato la sua ricandidatura, ottenendo un buon seguito di popolazione nella sua prima uscita ufficiale, i più refrattari hanno pensato che sia forse il caso di serrare le fila. L'incontro decisivo dovrebbe tenersi questa sera, certa la presenza del gruppo per una diamante migliore del risveglio del nuovo movimento Cambiamenti che avrebbe dovuto inaugurare la sede tra sabato e domenica. La posizione che fin dall'inizio aveva creato qualche imbarazzo al progetto unitario è stata quella dell'ex sindaco Ernesto Caselli. La sua candidatura, già lanciata l'estate scorsa, aveva fatto tirare il freno a chi invece sperava di costruire l'alternativa unitaria a tavolino e con il confronto. D'altra parte Caselli aveva però trovato l'appoggio di gran parte dei gruppi di opposizione con qualche momento di incertezza anche all'interno del risveglio. Alla fine l'ex sindaco dovrebbe partecipare alla donata che dovrà portare i classici nodi al pettine. Ma quali sono gli scenari possibili? Le primarie tra aspiranti candidati che mai hanno concorso la carica di sindaco è che mai abbiano vestito la fascia di primo cittadino come proposto dal movimento per una diamante migliore, l'individuazione di un uomo di sintesi attraverso il confronto o alla fine un più quotato nulla di fatto.